Rilanciare lo sport nelle periferie a Bari attraverso il coinvolgimento delle società del settore. È l'obiettivo di Giacomo Olivieri, candidato sindaco in corsa per le primarie del centro-sinistra del 23 febbraio. Olivieri si è recato nel quartiere Iapigia, dove ha sottoscritto un impegno formale con i vertici delle società sportive e delle scuole calcio del campo Bellavista, una delle tante strutture del capoluogo ormai fatiscenti. Manca l'erba sintetica e un'adeguata valorizzazione della pratica sportiva che coinvolge centinaia di ragazzi, sottraendoli ogni giorno alla devianza, il tutto in uno dei quartieri più popolosi con oltre 80.000 abitanti. L'impegno è quello di avere i servizi sociali insieme allo sport, perché i servizi sociali devono aiutare i ragazzi a rischio, nelle associazioni sportive. Il Bellavista lo rivolgiamo come quando è nato, il punto di riferimento per il calcio barese. Quindi completamente ristrutturato, che cosa prevede il progetto? Come tutti gli altri impianti che a Bari stanno funzionando, non è possibile che un quartiere come Iapigia sia il fanellino di coda?